Salve a tutti, sono Andrea Pini, coordinatore di Televiva Certaldo. Faccio questo video perché ho bisogno di comunicarvi la mia soddisfazione per l'iniziativa di ieri che si è svolta a Badia Ermi, dal titolo Presente e Futuro della Plastica. L'iniziativa è stata un grande successo per il numero di persone, per la qualità della discussione, per la serietà e l'approfondimento dei temi con cui sono stati trattati. E quindi volevo esprimere la mia soddisfazione e gratitudine a tutti quelli che sono intervenuti, a partire da Simona Bronco del CNR, a Simone Campinotti di Asef e CEAM, a Caro Desideri di Desipac e Andrea Menzi. Gli imprenditori hanno dato un contributo determinante, la ricercatrice è riuscita in qualche modo a farci capire molti aspetti, soprattutto la differenza tra plastiche e bioplastiche e le difficoltà che comunque ci sono in questo settore. Un grazie speciale ovviamente a Edoardo Fanucci e Stefano Scaramelli di Italia Viva. hanno rafforzato la posizione del partito di contrarietà alla Plastica Tax, che è una tassa totalmente inutile per gli obiettivi che si pone, dannosa per le nostre aziende. Non è l'approccio giusto, quindi bisogna perseguire una strada diversa, che parte dall'educazione, alla ricerca, all'innovazione, agli incentivi, al riciclo. Insomma, un sistema, diciamo, positivo, circolare, che possa in qualche modo effettivamente trattare questo aspetto della plastica, la tematica della plastica. Un grazie speciale anche a Giacomo Bertelli. Una sola parola, bravo, devo dire la verità, Giacomo Bertelli ha coordinato l'iniziativa in modo eccelso con competenza e professionalità. Sono veramente molto contento del suo lavoro. Un grazie anche a tutti quelli che sono intervenuti, al giovane studente Komal Haifana, poi non mi ricordo come, dell'Università di Siena, che viene dal Togo, che ha fatto un intervento parlando soprattutto della visione globale in cui bisogna avere per il trattamento della plastica. Non è necessario trattarla soltanto in Italia, bisogna trattarla a livello mondiale. All'insegnante, di cui non ricordo il nome, comunque in ogni caso che ha evidenziato l'esigenza di, in qualche modo, indirizzare la scuola su una tematica un po' più complessa. Nella scuola si parla della plastica soltanto in modo negativo, invece bisognerebbe parlarne anche in modo positivo, non è da demonizzare la plastica. Al folto pubblico, naturalmente a tutti i membri dei comitati che insieme a me hanno organizzato l'evento. Io credo che con questa iniziativa abbiamo dimostrato che Italia Viva non è il partito di un solo leader, ma è fatta da tanti leader, tanti leader. È una start-up che nasce dall'esigenza di fare politica in modo concreto e non ideologico. Penso che ieri ci siamo riusciti a pieno. E quindi vi ringrazio, a presto.